Amore è filosofo e in quanto tale sta in mezzo fra il sapiente e l'ignorante. Sono parole tratte dal simposio di Platone 204b, nelle quali si condensa quella che a dire di Platone è l'essenza della filosofia come Eros. Il filosofo è in quanto tale strutturalmente analogo all'amore, a Eros, il dio dell'amore. Perché la filosofia è per sua essenza strutturata eroticamente? Per il fatto che il filosofo, proprio come l'amante, è in tensione verso qualcosa che non ha ma che desidera avere. È in una situazione mediana fra chi non ha e chi già ha, perché come chi non ha è privo dell'oggetto desiderato, ma come chi ha sa che cos'è questo oggetto e desidera perciò stesso averlo. Il filosofo sta dunque in una posizione mediana, è mediano tra il sapiente e l'ignorante. Il sapiente già sa e dunque non ha bisogno di mettersi alla ricerca dell'oggetto amato. L'ignorante dal canto suo non sa, ma non sa neppure di non sapere e dunque anche egli non avverte l'esigenza di mettersi alla ricerca dell'oggetto amato. Il filosofo dal canto suo, proprio come l'ignorante, non sa, ma socraticamente sa di non sapere e perciò stesso si mette alla ricerca del sapere di cui si sa sprovvisto. Ecco perché la filosofia è tensione erotica, non è semplicemente sapere astratto e disincarnato, come troppo spesso oggi viene presentata, ma invece per sua essenza esperienza erotica, passionale, amorosa, giacché il suo fondamento è quello erotico della ricerca appassionata di qualcosa di cui si avverte la mancanza. Proprio come l'amante muove alla ricerca della persona amata in ragione del fatto che la desidera e non la possiede, ma si adopera per possederla, analogamente argomenta Platone il filosofo è anche egli un amante, perché desidera possedere l'oggetto amato, che in questo caso è la sapienza, la sofia. Il filosofo è filos della sofia, è amante del sapere ed è perciò stesso consapevole di essere sprovvisto di quel sapere che pure desidera e del quale si mette alla ricerca. Per questo Socrate è dal punto di vista platonico l'emblema della filosofia, già che Socrate per tutta la sua vita ripete di non sapere, mette in luce la propria consapevolezza di non sapere e insieme di voler sapere. Egli desidera eroticamente possedere l'oggetto di cui si saprivo. Per questo ancora una volta il filosofo è colui che desidera diventare sapiente e per questo si applica nella filosofia. Gli ignoranti, dice Platone, non si danno alla filosofia, né aspirano a diventare saggi, proprio perché l'ignoranza è terribile, non è né nobile né saggia e crede di aver già tutto a sufficienza l'ignoranza. Laddove invece la sapienza è già appagata di sé e dunque anch'essa in una condizione, per dir così, statica, di appagamento. Solo il filosofo invece intenzione, ripeto, perché cerca qualcosa di cui è privo. In questo senso amore, dice Platone, è figlio di Poros, è figlio dell'espediente, perché in qualche modo cerca continuamente un mezzo per raggiungere l'oggetto amato, si adopera, si dà da fare per ottenere ciò di cui manca e che pure desidera. Ma poi è anche figlio di penia, di povertà, perché l'amore è condizione di mancanza, è mancanza d'essere, diremmo con Sartre, ed è perciò stesso ricerca appassionata dell'oggetto mancante. Appunto il filosofo come l'amante è figlio di espediente e di povertà, di Poros e di penia. Cerca in ogni modo, con ogni espediente, di raggiungere una condizione che superi la povertà iniziale, quella povertà in forza della quale egli è privo dell'oggetto amato. Per questo la filosofia è uno sforzo, una tensione erotica, una tensione in cui conoscenza e passione si intrecciano e danno luogo alla ricerca filosofica come passione della verità.